Se volete acquistare crediti FIFA a basso prezzo passate su fifacoin.com e con il codice GRANANAS avrete il 5% di sconto SBO- Bella vecchia roba di semigranases, siamo tornati, finalmente è uscito, ci è, ci è, sul nostro canale FIFA 16 Figa 16 Figa 16, la figa italiana La figa? Perché è quella di qualità Hai capito? Eh Vedi quella brasiliana un po' No beh non è che male eh Però comunque niente Oggi vi abbiamo voluto portare come primo video su FIFA 16 Il gioco completo ovviamente Eh siamo con Italia-Brasile Cioè tipo la nazione italiana fa schifo rispetto a quella brasiliana Va bene non fa niente Io ho Gabbiadini Che è la sorella di Manolo Quindi Ah questa qui non è Felleni È Gama No è Pasqua da Gama È Gama Serena Gama Che cazzo fa? Madonna mia Allora comunque la cosa che volevo dirvi Intanto che noi proviamo a giocare Oh 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 È che mi avevamo in mente di fare un prodotto di vision Però diverso dagli anni scorsi Farlo con le squadre Mano a mano Cioè Costruendola Partendo da una squadra a bronzo Cioè Comunque i giocatori che abbiamo all'inizio E costruendola piano piano con voi Guardate eh Oh 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 Oddio Tais Oddio Ma quanto ha tirato male Regà Oddio Ha tirato malissimo E vabbè Cioè Ma che è Marta? No Taisa Cioè guarda quanto ha tirato male Io ho tirato sul primo palo Pfff Ma Mamma Ma Sia fattata allucinante Ma che è? Vabbè tipo il Brasile regà è la squadra più forte dei FIFA Femminile Oh Oh ma questa Formica Oddio No dai Oddio Regà non ha capito un cazzo Non muo fa vedere la golla in technology è quotata a zero Cioè Cioè tu non puoi capire Ma puoi capire che ha fatto questa? Sta formichina E qual? Golla in technology eh Si sapeva È stragoll tra l'altro Facci vedere bene Aspetta che l'abbiamo visto bene Vai Oh però guarda Cioè no regà io voglio vedere l'azione Perché ha fatto un'azione di Cristo Ma il Brack è pure andata più in là la palla Cioè Cioè Guarda Una bestia Oh Formica Oh Oh No regà qua proprio alti livelli di skill Questi di sasso Fuori gioco E E E E fallato Mamma mia Dio ci ho creduto troppo regà no E Spalla Oh Gabbiati Spalla Spalla Posso mettere fratello Che se le fa tu Cioè Se le fa tu In tutti i sensi L'appoggia E tiro Gole Gole L'Italia Che gola ha fatto? Sei testa Che gola ha fatto? Dell'elmo Basta Di scipio Cernoia Cernoia Sai che goga ha fatto? Che se non la chiudi Se apri tutto La cernoia Lascia perde Lascia perde proprio Attenzione Appoggia Arriva cernoia Che la butta Sotto al 7 Ma i portieri Comunque i portieri femminili Non saltano Non saltano Sono fuori gatti L'Italia 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 Come Uh uh Rosucci Ma perché? Gama Mamma mia Sono poco storte Gama Gama Madonna Gabbiatini Dovi provare il pallonetto da fuori Ancora Cesar Pronto La butta in mezzo Il tiro Comunque L'Italia ha cominciato a giocare Ha preso coraggio Ha preso coraggio Ha preso coraggio Si 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 Tutti a prendere un bel dildo Un dildo caldo Invece del te caldo Si va Boom No Tira Mamma mia Ma vaffanculo Si è immolata Ma Cristo Dio Ancora per lei Ancora Girelli No Girelli I portieri Non saltano I portieri Non saltano Cioè Ma che cos'è Basta È una cosa testissima I portieri Non saltano Ragà Cioè guarda Il portiere mio Ha fatto così È cascato per terra Guarda Guarda Girelli Guarda Guarda A parte qui Vabbè Sto passaggio Indecente proprio Guarda Girelli Ma vedi che non è Si è buttato La butta All'indietro Lei Girelli Guarda come cammina Ciampettina Cioè Ehi In mezzo a due In mezzo a due È arrivata In mezzo a tre Ancora In mezzo a quattro Oddio Oddio No no Dai Cioè Ti sei fatto Tutta la panchina Ecco Dai Non male È pure rosso È pure rosso Ma davvero ha dato rigore Ma perché sta cosa Eee 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 Anfame Che può guarda Ma ma Perché ha dato rigore Mai steso Io quando ho tirato Mi sa che pure spursa Una No no Non gli ha dato manco un giallo Non hai capito Qua se fischiano Poi manco gli dà Perché le donne Si ammazzano Fra di loro Ci voglio tirata No Che cazzo fa Ma perché è così Mongoloide Mauro Guarda che partito Rosucci Grande Rosucci Va te ne importa Rosucci Grande Rosucci Grande Rosucci Si Per lei No C'è lei Che cazzo fa Ma che è rimane per terra Ma quanto può essere Ma guarda il portiere mio Guarda è rimasto per terra Ma che è me lo Porco di Gabbiatini Ma dove sono alzato Ho lanciato la sedia A culare una Quello per la 12 Ma no la Gabbiatini Ma no la Gabbiatini Ma no la Gabbiatini Ma no la Gabbiatini Guarda che culo UUUUUU Mamma mia Chi è sto fenomeno Taiiscignia Cristien Se si pronuncia così L'Italia si spera Girelli Girelli No che cazzo fischi Stavano a porta Che Brasile Ragazzi Che Brasile Che Brasile Che Brasile Vabbè rega Stavolta è finita Con l'Italia che comunque Si è fatta valere Nonostante sia molto più scarsa Rispetto al Brasile Digiamo L'ha seduto in attacco e basta perché la difesa è identica e poi c'hai avuto un culo della madonna che c'è comunque stiamo dicendo se ne vedo questo video lasciamo like a bestia a bomba bombazza 5.000 dai arriviamo su 5.000 fatti sapere la serie quella lì che vi abbiamo detto all'inizio che vi abbiamo detto all'inizio se vi piace ve la faremo e niente ragazzi i pack opening arriveranno dateci il tempo di fare qualche soldo per comprare i fifa points o cazzi vari arriveranno i pack opening e niente ragazzi ci becchiamo al prossimo video come sempre bella ciao